Tensione alle stelle e poi la violenza che si è scatenata ieri sera in via Longhina all'interno del campo nomadi. Momenti di paura quando una delle casette mobili è stata speronata da un furgoncino raccogliferro e da un furgone più grande. Un'irruzione a scopo vendicativo per regolare i conti dopo una lite che qualche ora prima era esplosa all'interno di un bar di via Veceglia e Larcella tra un 35enne rom residente nella casetta di via Longhina e un 29enne residente in via Baiardi. Quest'ultimo dopo Larissa al bar ha radunato un gruppo di familiari e si è diretto con i due mezzi contro la casa del 35enne per una spedizione punitiva. Quando sono arrivate le forze dell'ordine il furgone si era dato alla fuga mentre il cassonato raccogliferro era ancora incastrato con i vetri rotti. Tutto attorno uomini e donne che stavano litigando. L'impatto dei due mezzi aveva provocato il ferimento di una donna e di un sedicenne che viveva all'interno. Negli attimi concitati della rissa si è giunta poi la paura per una bambina di due anni che viveva nella casetta colpita. I vigili del fuoco hanno subito cercato tra i rottami per scongiurare che la bambina non fosse rimasta incastrata. La piccola, spaventata dalla violenza, si era invece allontanata ed è stata ritrovata dopo due ore di ricerche. Si era nascosta all'interno di un altro camper per la paura. I carabinieri, dopo aver riportato la calma, hanno identificato tutti e si sono messi alla ricerca del furgone individuato in via Donà. All'interno è stato identificato il 29enne che aveva organizzato la spedizione punitiva, suo fratello di 21 anni e la compagna di 31. Tutti e tre sono stati denunciati per danneggiamento. Le indagini continuano per ricostruire la dinamica e le responsabilità anche di altri. Sui fatti di via Longhin, l'opposizione in consiglio comunale attacca la maggioranza. La situazione per quanto riguarda la sicurezza al campo nomadi di via Longhin è esplosiva. D'altronde l'amministrazione comunale, quando nell'agosto dello scorso anno aveva trasferito altre famiglie Rom presso la sede di via Longhin, dall'allora sede di via Ferrero, aveva dichiarato che era solo una soluzione temporanea. A noi sembra che non solo non sia più temporanea ma sia definitiva, ma che l'amministrazione non sappia davvero cosa stanno vivendo i residenti della stanga. Io credo che sia il momento che il sindaco prenda atto dei demeriti di questa situazione, di aver creato un vero e proprio ghetto.